Musica Dentro il palazzo del Consiglio regionale, all'ordine del giorno, una variazione di bilancia a favore della Saga, società regionale che gestisce l'aeroporto, e del Ciapi, l'ente regionale della formazione. Fuori cancelli la rabbia dei lavoratori degli istituti di ricerca regionali in agricoltura, Cotir, Crivea e Crab, che ancora una volta si sentono esclusi e pesi in giro da una regione, urlano, che ha figli e figli astri. Al Crab entra in liquidazione e sono 24 i lavoratori che non percepiscono stipendio da 8 mensilità e il debito della società aumenta di mese in mese, sforando i 700 mila euro. In un'agonia senza fine, i lavori già svolti non possono essere incassati perché il DURC non è regolare. Stessa drammatica situazione al Crivea e al Cotir di Vasto, dove i 26 lavoratori hanno accumulato stipendi arretrati per 21 mensilità. Aspettavamo questa variazione, come ci era stato promesso dall'assessore, ma pare che ci abbiano dimenticato. Siamo 8 mesi di stipendi arretrati, i debiti continuano ad accumularsi. Purtroppo siamo un end in liquidazione, quindi non possiamo partecipare a nessun bando, a nessun lavoro pubblico. Noi siamo ad oggi 21esima mensilità, abbiamo sempre lavorato, abbiamo concluso, stiamo concludendo, abbiamo concluso tutti i PSR che ci sono stati assegnati e ora in questi giorni stiamo proprio chiudendo anche gli ultimi. Il Consiglio è stato dunque interrotto subito dopo l'inno di Mameli per un incontro con la delegazione degli istituti di ricerca. L'assessore Dino Pepe assicura che sarà data loro una risposta. Entro luglio noi siamo in grado di pagare altri stipendi sia al Cotir che al Crab con la copertura dei progetti in corso e poi stiamo verificando con l'assessorata al bilancio l'opportunità di intervenire attraverso una variazione. Con il collega Paolucci stiamo lavorando per portare entro l'estate una variazione di un milione di euro che ci possa consentire di sanare parte del debito arretrato. Altri punti all'ordine del giorno le attese norme in materia di riordino territoriale dei comuni e delle loro fusioni. La proroga del commissario straordinario dell'Arap e infine per l'ennesima volta l'elezione del garante dei detenuti. Resta in pole position la candidatura della radicale Rita Bernardini ma ancora una volta sarà molto difficile trovare in Consiglio la maggioranza qualificata. Forza Italia ed anche il Movimento 5 Stelle infatti non ne vogliono sapere di dare l'ok ad una nomina sentita come imposta dall'alto dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Sono la responsabilità della maggioranza che fin dall'inizio ho pensato di poter fare tutto da sola. Nell'ultimo consiglio ci fu una proposta, cosiddetta proposta del bastoncino da parte del Presidente D'Alfonso. Ne abbiamo aperto perché riteniamo scandaloso il fatto che ancora non si riesca a dotare questa regione a un garante dei detenuti. Abbiamo chiesto soltanto di approfondire quale sarebbe questo meccanismo per arrivare a eleggere il garante però queste ultime due settimane sono passate inutilmente e nessuno si è fatto sentire. L'Udc Aquilano si riorganizza in vista delle prossime amministrative del maggio 2017. Il partito del segretario nazionale Lorenzo Cesa che in consiglio comunale ha come rappresentanza il consigliere Raffaele Daniele ha l'obiettivo di creare un gruppo forte e coeso fatto da professionisti aquilani. Il segretario comunale è l'avvocato Luciano Bontempo. Per quanto concerne la riorganizzazione del nostro partito diciamo che la mia espressione è stata una volontà di Lorenzo Cesa con il quale ho avuto un colloquio e ho accettato perché ritengo che ormai non si debba più stare a guardare. Ognuno di noi deve contribuire seriamente allo sviluppo di questa città e abbiamo riorganizzato, stiamo riorganizzando un Udc nuovo. Non è vero dunque, non corrisponde quanto qualcuno sostiene, che l'Udc sta scomparendo e che assolutamente non è vero. Noi ci siamo riorganizzati, abbiamo costruito una squadra nuova fatta di soli professionisti e di persone che intendono portare avanti determinati progetti ben più importanti e quindi andiamo a recidere il rapporto con la vecchia politica, questo è il senso. Probabilmente l'Udc non esprimerà un candidato sindaco per le prossime amministrative ma creerà una lista di appoggio a uno dei candidati. Resta da vedere a quale e a quale schieramento, centro-destra o centro-sinistra. Massimo Ranieri, artista poliedrico napoletano, sarà l'ospite d'onore della perdonanza celestiniana, edizione numero 722. Massimo Ranieri terrà il concerto di chiusura il 29 agosto, ma sarà anche il testimonial di tutta la perdonanza celestiniana, come annunciato da Alfredo Moroni, vicepresidente del comitato organizzatore. Ricco il calendario di eventi che partiranno il 17 agosto per concludersi il 4 settembre con la seconda edizione della Rassegna Jazz che l'anno scorso portò all'Aquila oltre 60 artisti e 60.000 persone. Quest'anno il tema scelto sarà quello dell'amore per la natura e per l'ambiente, con un collegamento forte tra San Pietro Celestino, il Papa del Rifiuto e San Francesco, il poverello d'Assisi. Assisi appunto ospiterà la bolla del perdono in una mostra documentaria, aperta da luglio fino ad ottobre. La bolla tornerà ad ottobre all'Aquila e sarà restaurata. Il 4 ottobre ci sarà anche un convegno per parlare di Celestino V e San Francesco. Il comune ha messo in piedi anche diverse iniziative con il FAI, come la Marcia del Creato, che ci sarà il 20 agosto. Esistono poi alcuni altri elementi che riteniamo fondamentali per la costruzione di tutto il cartellone. Uno è il torneo della pace, che dal 27 al 29 di agosto interesserà le squadre primavera di Juventus, Torino, Roma e Pescara. L'altro è un argomento di fondamentale importanza in questo momento, riteniamo di toccare, che viene realizzato attraverso un monologo dello scrittore Antonio, su un'opera di Antonio del Giudice, quella relativa al dottor Nisticò, che in questi giorni è stato presentato in anteprima, credo, a Pescara. La Porta Santa di Colle Maggio, anche se in fase di ristrutturazione, sarà aperta e messa in sicurezza per consentire il passaggio dei pellegrini attraverso la porta. Ad aprire la Porta Santa, il Cardinale Edoardo Menichelli, Giorci Vescovo di Chieti e segretario della Commissione Episcopale per la Famiglia, dal 27 al 29 agosto inoltre prenderà il via la seconda edizione della Coppa della Pace, che quest'anno vedrà sfidarsi le primavere di squadre come Juventus, Torino, Roma e Pescara e l'Aquila. Alla conferenza stampa erano presenti anche i componenti del comitato, Don Carmelo Pagano le Rose, Don Vito Sacchi e la storica dell'arte Giovanna Di Matteo, oltre al responsabile della scuola calcio dell'Aquila Calcio, Maurizio Ianni, che ha illustrato appunto il programma della Coppa della Pace, torneo giovanile, che si terrà ad agosto allo Stadio Fattori.